Ha trovato un portafoglio e lo ha restituito intatto ai carabinieri. Protagonista del nobile gesto, un cittadino senegalese che sabato a Cabras ha raccolto in una via del paese un borsellino contenente 200 euro, oltre ai documenti d'identità, banco, matto e carte di credito. Senza pensarci due volte, si è recato dai carabinieri e ha restituito tutto, esattamente come lo aveva trovato. Alla domanda del comandante di stazione se volesse incontrare il titolare per un'eventuale ricompensa, ha risposto, no grazie, ho solo fatto il mio dovere.